La questione è se Montalbano, io ho capito che abbia difficoltà con l'italiano Montalbano, però evidentemente non leggi i giornali, perché se leggessi i giornali in italiano saprebbe che, sì, tra i migranti ci sono stati anche dei terroristi. Tu come la pensi? Allora, io in primis volevo soffermarmi un attimo solo sul linguaggio che viene usato, perché di tutto quello che hai detto mi ha sorpreso una cosa, il fatto che tu abbia detto se Montalbano leggesse i giornali, ora, ridiamo e scherziamo, però è questo il linguaggio che si usa in Italia, se Montalbano, che è un personaggio ragazzi, quindi è un personaggio di fantasia, leggesse i giornali, questo è il modo con cui oggi la politica si rivolge alla gente, è come quando si diceva ai tempi mi scrivo ai terroristi oppure tornatevene in Islam, è lo stesso tipo di linguaggio. Se Montalbano si occupa di politica, Montalbano non esiste, Montalbano è un personaggio. Sì, ma lo fanno parlare, appare, balla la gente e dire una cosa. A che partire gli fanno parlare? Io penso che se...